Egittologia, antropologia, fisica. Sono solo alcune delle tematiche che i nostri ospiti, esperti studiosi conosciuti e riconosciuti in Italia all'estero, andranno ad affrontare in ambito culturale, sociale, politico. Ecco a voi Pianeta Terra, un progetto realizzato dal circolo culturale Passepartout, il Club dei Viaggiatori, associazione di promozione sociale di Rivarolo Canavesa. Riccardo Manzini, da molti anni professional member dell'International Association of Egittologists, è autore della collana in otto volumi di descrizione ed analisi di tutti i complessi piramidali egizi e degli edifici similari, oltre a quattro volumi di vari argomenti egittologici. Titolare dei corsi di egittologia di alcune sedi dell'Università della Terza Età in provincia di Torino, ha tenuto oltre 120 conferenze in Italia ed all'estero ed è stato invitato a partecipare ad alcuni congressi internazionali. È appena uscito in libreria un suo volume monografico sulla progettazione della piramide a doppia pendenza di Snefru ad Ashur. Iniziare degli incontri sulle piramidi dicendo che delle piramidi non se ne può più può sembrare un ridicolo controsenso, ma in effetti è una cosa molto vera. È una frase ironica che ha detto uno dei miei grandi maestri, Silvio Curto, l'ex direttore museo egizio, sovrintendente dell'antichità egizia, accademico di Francia, eccetera, eccetera, quando ha fatto la presentazione del mio primo volume sui complessi piramidali egizi, e ovviamente l'ha detto in maniera molto ironica, ridendo, l'ha detto per stimolarmi, per invitarmi, per provocarmi a fare una divulgazione su questi edifici, soprattutto una divulgazione che fosse corretta. In effetti il motivo per cui lui ha fatto questa affermazione è dovuto al fatto che il fascino delle piramidi negli ultimi anni ha richiamato moltissimi fornitori di informazione che attraverso documentari, programmi, pubblicazioni hanno parlato di piramidi, ma non con il fine di divulgare la conoscenza, semplicemente con il fine di ottenere un maggior richiamo di pubblico. Questo ha fatto sì che l'informazione che è stata data alla fin fine abbia creato solo una grandissima confusione e, cosa ancora più grave, ha creato delle false certezze. La scienza non è fatta di certezze, anzi tutt'altro, è fatta di incertezze se non esisterebbe più la scienza. Ma la finalità di questi fornitori di informazione, quindi, prescinde dal divulgare. Come conseguenza è che si preferisce spettacolarizzare l'informazione, ma non solo riferita alle piramidi in genere, spettacolarizzare piuttosto che dare una informazione concreta e esatta, precisa. Addirittura in certi casi sono arrivati a fornire delle informazioni che sono del tutto errate, ma sono di grande richiamo. Questo, non che questi programmi, queste divulgazioni siano fatti da persone non attendibili, o perlomeno ci sono anche persone non attendibili, ma più che altro sono fatte da grandi egittologi in cui però sia il fine di spettacolarizzare da un lato, sia dall'altro il prendere frammenti di discorsi molto più ampi, alterano completamente il significato e quindi viene a essere presentata un'informazione che non è corretta, ma non perché non sia corretta da parte di chi lo dice, insieme da parte di chi lo utilizza, la monta, questa informazione. Tutto questo per dire che, soprattutto in campo egittologico, si conosce molto poco, nel senso che noi abbiamo tante conoscenze, tantissimi studi in corso, ma di certezze molto poche. Quindi, parlando di piramidi, ancora più, c'è molto spazio a, diciamo, informazioni non ufficiali. Questo ha aperto la strada, ed è una cosa gravissima, a egittologi improvvisati, i quali, la cosa grave non è il fatto che siano egittologi improvvisati, ma è perché vengono fornite informazioni, vengono fornite ipotesi, vengono forniti ragionamenti che magari sono anche sensati, magari sono anche giusti, interessanti, ma sono del tutto estranei al mondo egizio. Questo è il risultato proprio di questo tipo di pseudo-informazioni. Quello che invece è importante e fondamentale nella scienza è fornire un'informazione corretta. Dopodiché spetterà gli studiosi elaborare ulteriormente, approfondire, trovare magari ipotesi o strade nuove. Però l'informazione deve essere assolutamente corretta, magari scarna, ma corretta. Questi nostri incontri, quindi, non vogliono fornire delle verità assolute che nella scienza, appunto, non esistono. Questi nostri incontri vogliono semplicemente sfrondare questo argomento, l'argomento delle piramidi, da tantissime sovrapposizioni che nel corso degli anni si sono aggiunte ad alterare, alla fine, il quadro effettivo di questi edifici. Non che appunto esistano delle verità da proporre in alternativa. Quello che ci proponiamo invece è di sfrondare il campo e piuttosto soffermarci sull'ambiente culturale, l'ambiente architettonico, l'ambiente sociale che ha prodotto le piramidi. Quindi, per riuscire a capire perché sono poi cambiate e in che modo sono cambiate. L'iniziativa di questa associazione, quindi, come in tutte le altre iniziative dell'associazione, è quella di fornire una divulgazione vera, concreta, non magari approfondita, non necessariamente approfondita, ma un'informazione concreta, da cui chiunque può partire per elaborare un proprio convencemento, confrontarsi con altri e, tra l'altro, contribuire al progresso delle conoscenze vere. Perché chiunque, in questo caso, può dare un'idea che può essere di stimolo a delle ipotesi, ma deve partire da dei dati assolutamente concreti. Parlando di piramidi, quindi, è assolutamente fondamentale, intanto, inquadrare il problema. E si può inquadrare, incominciando da un aspetto apparentemente sottovalutato, ma molto importante, che è un aspetto assolutamente generico, cioè, che cosa sono le piramidi e perché hanno fatto le piramidi. Soprattutto, in che cosa la piramide egizia si differenzia da tutte le altre. Noi siamo attirati dalle piramidi egizie per l'aspetto, per l'imponenza, per il fascino che emana. Ma nel mondo di piramidi ce ne sono tantissime, fatte in tutte le epoche e da tutte le culture, da tutte le società. Ce ne sono anche in Cina, ce ne sono in Sardegna, ovunque nel mondo. Ma cos'è che contraddistingue le piramidi egizie da tutte le altre? All'apparenza, appunto, è l'aspetto, l'imponenza. In effetti, il motivo per cui sono diverse da tutte le altre, e molto diverso, sono i motivi culturali che le hanno fatte concepire. La piramide egizia non è stata scelta solo per una ragione estetica, o meglio, non è stata scelta proprio per una ragione estetica. È stata scelta perché in quella, in quel solido, sono riusciti a far convergere tutte le maggiori simbologie religiose, culturali e sociali del loro mondo. Tant'è che per gli stessi egizi, la piramide è un emblema della loro società, era vissuto come un emblema della loro società. La scelta della forma piramidale, vedremo in uno dei prossimi incontri, è dovuta a un banale motivo geometrico. È il solido, non cementato, che consente di raggiungere le massime altezze col minimo volume. Ma loro sono riusciti a tradurre in questo aspetto, in questo edificio, tutte le maggiori simbologie. È questo che contraddistingue la piramide egizia da tutte le altre. Allora, vediamo ad esaminarlo un attimo, sommariamente, però, esaminarlo nei particolari. Tanto la piramide egizia è sempre e solo stata costruita da sovrani. Nessun privato si è mai permesso di costruire una piramide. Può sembrare una cosa banale, legata all'aspetto economico, ma non è così. I sovrani egizi, prima di Zoser, cioè di colui che ha costruito la prima piramide, venivano sepolti in edifici che si chiamano mastabe, in pratica sono dei parallelepipedi rettangoli, più o meno grandi, e tutti venivano seppelliti in questo tipo di edificio. Ma questo modello, questa mastaba, è stata copiata da tutti. I funzionari, tutti coloro che potevano permettersi una sepoltura in tomba, hanno accoppiato il modello di mastaba. Perché non era vincolata a nulla, era solo un edificio. Nel momento in cui compare invece la piramide, e questa è l'esclusiva della forma piramidale in Egitto, nel momento in cui compare la piramide, beh, neanche nei momenti di crisi, crisi sociale, neanche i momenti in cui il ricco avrebbe potuto permetterselo, nessuno ha mai costruito una piramide, perché non ne aveva il motivo, non ne aveva la ragione, non ne aveva i requisiti per poter possedere una piramide. Quindi è importante questo concetto, che la piramide egizia è sempre solo costruita da sovrani per il culto proprio, ma anche attraverso il proprio culto, il culto degli dèi, e soprattutto come celebrazione emblematica della grandezza del paese. culturale, religiosa e sociale. La piramide, peraltro, non tutte sono state terminate, ma sicuramente tutte non sono mai stati concepiti come edifici isolati, sono sempre stati edifici che facevano parte di un monumento molto più ampio che si chiama complesso piramidale. Se la piramide è ricchissima di simbologie, l'intero complesso piramidale è ancora più ricco di simbologie, nel suo insieme. Ogni edificio che compone il complesso piramidale aveva un precisissimo significato simbolico. Quindi abbiamo già due caratteristiche particolari della piramide egizia. Sempre e solo regale, nel complesso piramidale. Quindi non è mai un edificio isolato. Non solo, ma il complesso piramidale era sempre collocato in una zona ben precisa. I complessi piramidali egizi sono sempre ad occidente del Nilo. Non troverete mai una piramide funeraria ad oriente del Nilo. Questo perché ha ragione? Perché intanto è facilmente comprensibile, guardando una carta geografica, il Nilo scorre da sud a nord quasi in linea retta. Quindi divide il mondo in est e ovest. Ma il fatto che loro abbiano scelto l'ovest è perché era considerato da loro la direzione del mondo dei morti. E perché era il mondo dei morti in quella la direzione? Beh, per un motivo pratico. Qualunque loro scelta erano sempre innanzitutto molto pratici e concreti. Il sole domina la quotidianità, soprattutto in un paese come l'Egitto. Da est a ovest tutto il giorno c'è il sole dominante. Tutto il giorno noi viviamo grazie al sole. Ma quando il sole alla sera tramonta ad occidente, quindi ad ovest, scende sotto l'orizzonte, che cosa fa il sole? Evidentemente va a portare la vita al mondo dei morti. È per quello che loro hanno scelto l'ovest come direzione del mondo dei morti. Quindi le piramidi sono tutte ad occidente del Nilo. Non solo, ma sono, vi dicevo, collocate in una posizione ben precisa ed è che sono sempre collocate nel deserto. Sia perché in questo modo non alienavano una parte di zona coltivata, sia proprio per lo scopo che doveva assumere la piramide. Allora, fatte tutti questi complessi piramidali costruiti tutti nel deserto occidentale, quindi il deserto libico, sempre al limitare del deserto, dove questo degrada verso la valle. Perché teniamo presente che gli Egizi vivevano esclusivamente nella valle. Erano rare occasioni in cui uscivano dalla valle. Quindi la vita era nella valle e aver costruito una piramide che è già di per sé imponente, al limitare dell'altopiano, significa che dalla valle io la vedo ancora più grande, quindi accentua ancora di più la sensazione che lì c'è sepolto un personaggio eccezionale. Ma avendole costruite nel deserto e non nella valle, significa che le ho costruite isolate. Non solo la piramide, ma il complesso piramidale è isolato dal mondo, è contornato solo da deserto. C'è un'altra cosa che accentua questo concetto ed è che il complesso piramidale è sempre delimitato da muri altissimi. Perché? Ma perché il complesso piramidale e quindi la piramide non erano luoghi di culto per la gente, non erano aperti al pubblico. dovevano essere degli emblemi della società, della loro cultura e come tali dominare e proteggere la quotidianità nel mondo, nella valle del Nilo. Chi viveva nella valle del Nilo aveva questa presenza che lo proteggeva. Lo proteggeva, vedremo nelle prossime incontri da che cosa? Lo proteggeva dalle sue paure. Però comunque era un emblema, quindi era un emblema della sua società, della società egizia, ma era anche una specie di amuleto della società, una protezione contro le proprie paure. Le piramidi non vengono costruite in tutto l'Egitto, ma soltanto in una zona che va da nord a Daburo Ash, a sud a El Laun. El Laun è una zona nel Fayum, il Fayum è quell'oasi che vedete sulle cartine a occidente del Nilo. Quindi in una zona ben delimitata. In tutto l'Egitto non sono mai state costruite piramidi. E perché sono costruite in questa fascia? sono costruite perché quella era la zona in cui si sono succedute le varie capitali nel corso degli anni in cui sono state costruite le piramidi. Cioè la piramide veniva a costituire un cimitero regale vicino alla capitale. Non sono state costruite per tutti i 3.000 anni di storia egizia, ma solo per un periodo di mille anni che va circa dal 2006 al 1.600 a.C. se queste sono le caratteristiche di tutte le piramidi egizie, a nessuna esclusa, piramidi che sono, ripeto, però principalmente funerarie, possono essere poi funerarie effettive o funerarie simboliche, questo lo vedremo per un attimo, però comunque funerarie, ci sono solo sette piramidi conosciute, poi magari ce ne sono altre, ma oggi la scienza ne conosce solo sette, che esulano da questo discorso. Intanto sono edifici piccoli, o meglio, relativamente piccoli, comunque hanno 30 metri di lato, di base, sono molto simili come struttura, come aspetto, sono dispersi sul suolo egizio, non sono solo in quella zona, ma sono sino ad Aswan, cioè sino all'estremo sud dell'Egitto, ogni tanto ce n'è una di queste sette piramidi, non sono solo ad occidente, ce n'è anche ad oriente del Nilo, e soprattutto non hanno appartamenti interni, cioè sono proprio delle costruzioni solo di pietra. Sono state costruite solo in un momento ben preciso della storia egizia, che è tra la fine della terza e l'inizio della quarta dinastia, per intenderci la quarta dinastia è quella di Cheope, probabilmente è dello stesso sovrano, e probabilmente questo sovrano è il padre di Cheope, questo che si chiama Snefru, ma questo è un'ipotesi. Di certo è che ci sono queste sette piramidi che sicuramente non hanno uno scopo funerario perché non hanno appartamenti interni. Il significato di queste sette piramidi non è, non trova gli studiosi tutti concordi, ma la cosa che sembra più probabile è che costituiscano, abbiano costituito, dei monumenti confinari del paese. avrebbero avuto la stessa funzione che millenni dopo avrebbe avuto il tempio di Abu Simbel costruito da Ramessa II, cioè lo straniero che arriva sa che da questo punto inizia il territorio controllato da questo sovrano. Probabilmente avevano questo significato. l'ultimo punto esclusivo delle piramidi egizie è questo, che il profilo fosse aggradonico o che il profilo fosse canonico le facce sono sempre perfettamente lisce. Tutto questo per dire che se queste sono le caratteristiche della piramide egizia, le caratteristiche principali della piramide egizia, beh, se noi le confrontiamo con tutte le altre piramidi vediamo la diversità. In genere, soprattutto questi programmi divulgativi, ma non solo, accomunano come paragone, come confronto le piramide egizie a quelle centroamericane, quelle dello Yucatan, Teotihuacan, eccetera, Ismal. Beh, se noi guardiamo come sono fatte, ma non solo da un punto di vista architettonico, noi guardiamo come sono fatte le piramide centroamericane, capiamo che stiamo parlando di un mondo completamente diverso, cioè la piramide centroamericana non è, come sovente viene, non dico presentata, ma viene lasciato credere, una scelta evolutiva diversa dalla piramide egizia. È una cosa, un edificio completamente diverso con finalità completamente diverse. La piramide centroamericana intanto ha sovente, non sempre, ma sovente le pareti molto più inclinate, le facce molto più inclinate alle piramide egizi. Soprattutto ha sempre un profilo che è dato da fittissimi gradoni e non mai da facce lisce. Ha sempre una decorazione in pietra che fa parte dell'edificio, non è solo adagiata contro, ma soprattutto ha due caratteristiche assolutamente uniche, cioè almeno una scalinata su una faccia sovente, grandiosa scalinata su tutte e quattro le facce e la sommità piatta dove c'è un edificio. Ora, questo edificio alla sommità è un tempio. Quindi, non ha niente a che vedere con lo scopo funerario della piramide egizia. Non solo. a questa scalinata serve a far sì che gli ufficianti possano salire e scendere. Quindi, è un edificio fruibile, è un edificio da frequentare. Abbiamo visto che la piramide egizia addirittura viene messa nel deserto perché non sia frequentata. Ha dei muri altissimi perché non sia frequentata. Quindi, è completamente un altro discorso. Non solo. La piramide egizia è molto lontana dai centri abitati. La piramide in centro americana è nel centro dei villaggi. Cioè, è un tempio. Sì, raramente, in pochi casi, ma raramente anche in questi edifici sommitali ci sono delle sepolture. Ma, non è l'edificio, la piramide destinata alla sepoltura. L'utilizzo del tempio sommitale per seppellire un defunto ha lo stesso identico significato che nella nostra cultura ha la cattedrale medievale in cui il nobile si fa seppellire. È comunque una cattedrale la nostra e comunque un tempio quello centro americano. Quindi, paragonare o perlomeno confrontare la piramide egizia con la piramide centro americana non ha nessun senso. Sono due cose completamente diverse. Uno, riassumendolo brevemente, quell'egizia è una sepoltura con significato simbolico ma una sepoltura che fa parte di un insieme di un monumento molto ampio isolato nel deserto con alti muri e non è da frequentare. La piramide centro americana è a Gradoni nel centro del villaggio con un tempio alla sommità da frequentare. Quindi, assolutamente un'altra cosa. Le piramide, vi dicevo, egizie vengono costruite dal 2006 al 1600 circa, nel momento in cui si smette di costruire piramidi nel 1600 la piramide egizia però è diventata già un simbolo per il mondo mediterraneo, un simbolo funerario. Infatti, da quel momento sino ai tempi nostri la forma piramidale noi la ritroviamo dal XIX secolo quindi dal 1800 in avanti per scopi unicamente estetici delle scelte estetiche ma nel mondo antico invece per scopi puramente prettamente funerari. La piramide non egizia mediterranea più famosa è quella romana di Caio Cestio dove questo ricchissimo romano sceglie di farsi costruire una tomba davanti alla porta di San Paolo a Roma far costruire questa piramide che dall'aspetto è una piramide egizia ha tutto rivestimento alle pareti un po' troppo inclinate per essere egizia ma non importa però il rivestimento è tutto in calcare bianco quindi esattamente come le piramide egizie si diversifica per tantissimi motivi intanto perché culturalmente non c'entra niente lui ha copiato un modello perché gli piaceva non perché ne avesse capito il significato culturale ma soprattutto si diversifica per due aspetti che sono aspetti puramente architettonici il primo è che mentre le piramidi hanno sempre un appartamento piuttosto più o meno articolato all'interno questo ha semplicemente una sala per di più decorata nessuna piramide egizia è decorata all'interno ha una sala decorata che è la sua cripta in cui è stato sepolto ma la differenza sostanziale è che mentre le piramide egizie dicevamo prima sono o tutte in pietra o in pietra e sabbia o in pietra e mattone la piramide di Caio Cestio è in pietra e calcestruzzo che è un materiale sconosciuto agli egizi e tipicamente romano fa parte tipicamente dell'architettura romana dopo l'esempio di Caio Cestio le ultime piramidi dell'antichità le piramidi funerarie quindi più simili al concetto diverso ma più simili al concetto egizio sono quelle che si trovano a nord di Aleppo in una zona che si chiama delle città morte le città sono Elbara Betresa hanno vari nomi sono vari paesini in cui queste tombe hanno ancora la piramide ma solo come copertura come copertura sommità il tetto è fatto a piramide il fatto che loro abbiano comunque voluto replicare il modello egizio è dato dal fatto che la base è costituita da una sola stanza molto ampia in cui però ci sono anche sepolture multiple in genere sono tombe familiari queste quindi quello è l'ultimo esempio di piramidi funerarie che si rifanno dichiaratamente a quelle egizie nel mondo antico finiamo questo breve incontro precisando una cosa prima ho parlato di piramidi funerarie o piramidi cultuali non tutti i complessi piramidali hanno la piramide cultuale solo qualcuno però quando c'è ha sempre la stessa identica forma della piramide funeraria mi spiego piramide funeraria a gradoni piramide cultuale a gradoni piramide funeraria canonica piramide cultuale canonica anche la piramide cultuale ha appartamenti all'interno ma il significato è diverso perché mentre nella piramide funeraria come dice il nome stesso viene sepolto il defunto quindi conserva il corpo materiale del defunto la piramide cultuale probabilmente non si è mai capito esattamente il significato ma probabilmente conserva l'anima del defunto tant'è che ci sono appartamenti simili a quelli della piramide ma sono molto piccoli cioè talmente piccoli che un feretro non può circolare quindi si presume anche per la vicinanza e per la contrapposizione alla piramide funeraria che abbia lo scopo di conservare l'anima del defunto al prossimo incontro di conservare Grazie a tutti.